Maria Lai, piuttosto che per esempio darsi alle plastiche, molto in voga in quel momento, recupera i materiali, non li va a cercare, li prende dall'intimità della sua casa o del suo territorio e destruttura il telaio, uno degli altri topos della tradizione sarda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.